ragazzi devo scappare allora venite dal 13 al 19 ottobre adesso fra pochissimi giorni a vedere la sirenetta così magari contribuite anche a rimettere a posto la piscina quindi dateci una mano abbiamo bisogno assolutamente di voi per rimettere a posto questa piscina dove al parenti venite al franco parenti dal 13 al 19 ottobre adesso la sirenetta sarà meraviglioso ciao